Ok ragazzi, stavo livellando i Pokémon nella Crazy Lock quando mi giunge questa notizia E' stato rivelato infatti un nuovo Pokémon di Pokémon Sole e Luna E mamma mia, sono contentissimo perché Questo Pokémon si chiama Salandit Penso sia ispirato a una Salamandra a giudicare sia dal nome che dall'immagine Ma ragazzi, ma questo Pokémon qua è stupendo Non tanto per l'aspetto che magari può piacere o no Ma ragazzi, allora, a parte che è di tipo Fuoco-Veleno Ed è una combinazione di tipi che già adesso sto adorando Perché veramente, non so da quanto tempo desideravo un Pokémon Fuoco-Veleno Ma soprattutto un Pokémon Fuoco-Veleno fatto bene Mi piace molto, devo essere sincero, anche d'aspetto Ma la cosa più bella ragazzi è la sua utilità Mamma mia, l'abilità corrosione signori miei Ma cos'è, cosa non è questa abilità? È in grado di avvelenare qualsiasi tipo di Pokémon Cioè stiamo scherzando In competitive questo qua fa sfracelli Schermory, addio, settima gen l'hai preso nel culo Schermory Questo qua usa tossina può avvelenare anche Pokémon di tipo Veleno O di tipo Acciaio Ed è davvero un Pokémon che io apprezzo tantissimo Sia d'aspetto che di concept E niente, basta Il video finisce qua Come solito vi porto questa piccola news Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo Pokémon Io lo trovo veramente stupendo come già detto E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.